Andiamo sotto rede perché si è conclusa la La sesta giornata della Superlega dove abbiamo detto c'è Perugia che ha battuto l'Itas di Atec Trentino a Trento 3 a 1, Civitanova regola Padova con secco 3 a 0, la novità è Milano che sale al terzo posto, batte Verona 3 a 1, ancora una vittoria di Vipo Valencia che è al quarto posto in classifica, quindi questa è un'altra sicuramente novità, andata a vincere a quinto a Ravenna E ancora registriamo la vittoria di Cisterna 3 a 1 in a casa con Monza, l'abbiamo detto ampiamente all'ora della Power Volley di Milano, abbiamo in collegamento con piacere Nicola Taldello, ciao Nicola Ciao buonasera a voi E allora, tanti complimenti a voi in questo bell'inizio, ecco ve l'aspettavate questa partenza, Piazza che è il vostro coach sicuramente messo i pezzi a posto negli ultimi tempi, insomma era un po' nell'aria già da qualche stagione, quarto, quinto posto E' bello vedere ecco una realtà come Milano, una grande città come dico io, essere tra le primissime, sicuramente abbiamo Perugia e Trento che sono ancora di poco avanti Nicola Sì intanto ti ringrazio per i complimenti, ce l'aspettavamo, non è che ce l'aspettavamo di essere terzi in classifica però comunque volevamo iniziare bene il campionato Cosa che c'è riuscita, abbiamo lasciato comprestata solo una partita, convivo che poi sta facendo un buonissimo campionato anche loro E a nord del vero dobbiamo ancora giocare con le primissime e comunque con le favorite del campionato Però intanto ci godiamo questo terzo posto e continuiamo a lavorare Le immagini che vedete sono relative alla vittoria in casa tra uno con Verona, Perugia sicuramente un passo abbiamo detto avanti perché è a 18 a punteggio pieno Tutte vittorie ma un tab break che ha lasciato un punto per strada Civitanova, poi Milano e Vibo Valencia Un passo indietro in questo avvio Modena e sicuramente Trento Facendo una fotografia del campionato, sicuramente il Covid ha inciso perché voi avete giocato di meno Ecco, com'è la situazione adesso? Ma allora guarda, ogni giorno vediamo quali sono le novità È sempre in divenire la situazione Per il momento siamo riusciti a giocare tutte le partite Anche nel nostro campionato non c'è stato nessun rinvio Magari a differenza di altri sport Niente, non è stato semplice riprendere dopo tanti mesi di stop Però insomma noi abbiamo fatto una lunga preparazione Come quasi tutte le squadre, a dire il vero Perché insomma il campionato doveva iniziare un po' prima Poi è stato un po' posticipato Quindi siamo arrivati più pronti all'inizio E niente, le squadre sono più o meno sempre quelle le favorite del campionato Noi proviamo a stargli il più attaccato possibile Ecco, quello che ti volevo dire è praticamente il fatto che da marzo in poi non si è più giocato Quindi avete fatto una preparazione un po' tipica praticamente tra luglio e agosto Ecco, questo ha un po' anche influito Cioè nel senso essere fermi così tanto tempo Poi riprendere quando magari fa caldo Allora noi di solito iniziamo verso i primi di agosto In un campionato normale Quest'anno abbiamo iniziato un mese prima E quindi diciamo che La condizione ambientale ha influito quasi niente Abbiamo dovuto fare sicuramente una preparazione diversa E molto più lunga del solito Perché non siamo mai stati abituati a stare fermi per così tanto tempo Senti, Trento un passo indietro Perugia, come a ciò dove va a Mila Ha conquistato anche la Supercoppa Fino adesso tiene testa solo Civitanova Secondo te saranno ancora queste le squadre che Insomma ai primi posti Ovviamente ci auguriamo anche Milano Perché ripeto, dal punto di vista personale È bello vedere una città Una società seria Che ha investito tanto Che vuole fare bene Vuole crescere E sappiamo come ecco Roma, Torino, Napoli Non è sicuramente facile Perché c'è concorrenza anche da altre parti Sì, sì, per quanto riguarda la pallavolo nelle grandi città È sempre un po' difficile Come dici tu C'è sempre la squadra di calcio di Serie A E quindi la concorrenza è spietata Per quanto riguarda campionato Perugia e Civitanova hanno iniziato come ci si aspettava Trento è iniziato un po' più a rallentatore Però sicuramente recupererà E già secondo me alla fine del girone d'andata Sarà tra le primissime Senti, prossima giornata Che sarà la settima Andate sul campo proprio di Civitanova Una squadra che ha cambiato non tantissimo Sì, sì, ha cambiato il palleggiatore Che negli equilibri di una squadra cambia Però è un campione Un ottimo palleggiatore Quindi non hanno avuto nessun problema Nell'inserirlo È una squadra molto forte Insomma, il campionato prima Hanno vinto Scudetto Mondiale per Club Champions League Quindi quello che si è concluso Quello dell'anno scorso non si è concluso Quindi non potremo sapere come È vero, non ce l'abbiamo questa controprova Senti, visto che sei un alzatore Che hai girato anche tanto Ecco, questo Valser Passami un po' il termine giornalistico Degli alzatori Anche con Travis Che è andato a Perugia Può spostare gli equilibri Perché a livello di Ecco, giocatori pesanti li abbiamo Io continuo a dire che questo Continuo a pensare Sia ancora Tutto ora il campionato più bello Più equilibrato Più tattico Più difficile del mondo No, ho perso un attimo la linea Ok, ti rifaccio la domanda Questo Valser Passami il termine giornalistico Degli alzatori Pensi che possa aver cambiato Un po' gli equilibri Ripeto, questo ritengo ancora Sia il campionato più bello Equilibrato del mondo Allora, senza ombra di dubbio È il campionato migliore A livello tecnico e di spettacolo Sicuramente il migliore È vero che tra i collegiatori Abbiamo perso Bruno Che è tornato in Brasile Che lui era uno dei primissimi È uno dei primissimi collegiatori Travis ha dimostrato Anche in passato Di poter stare nelle squadre Per vincere Ha vinto Scudetti Champions League Quindi non lo vedo come Un problema per Perugia Anzi Hanno iniziato anche molto bene Questa è la riprova De Cecco a Civitanova Giannelli a Trento Sono tutti Dei super pareggiatori Tra i primissimi al mondo Non credo che Questo spostamento Questo valzio di pareggiatori Possa influire Nel rendimento delle squadre Comunque saranno loro A contendersi il campionato Com'è invece la tua carriera Il tuo percorso Ovviamente presente Soprattutto futuro Hai davanti un giovane Molto interessante Forse non è più giovanissimo Come Sbertoli Ma comunque sempre giovani Ecco Tu che Ecco Il tuo obiettivo No Il tuo Non lo so Il tuo futuro Pallabolistico Qual è? Allora Beh Ricky Sbertoli È ancora molto giovane Perché gioca da tanti anni Ormai 5 o 6 anni In Super Lega Però è un ragazzo del 98 Quindi Lo manteniamo tra i giovanissimi Ok No niente Io Sono a disposizione della squadra Cerco di Aiutarla In In tutti i modi Dentro e fuori Fuori dal campo Nient'altro Sto studiando per In un futuro Diventare allenatore Questo è un po' Il mio Percorso Quello che vorrei Fare Quando smetto di giocare E niente La mia carriera è stata Ho fatto Uscito dalle giovanili A Treviso Che allora era Il settore giovanile Più importante Ho fatto un po' Di anni in Serie B E poi Ho fatto un po' Di A2 Ho vinto l'A2 Perugia Ho giocato in A1 Perugia E poi sono quasi sempre Rimasto in Superlega Questo è un po' Il mio percorso Arrivo da due anni A Trento Molto gratificanti Anche dal punto di vista Dei trofei E adesso sono Tornato a Milano Perché prima di Trento Ero Ancora qui Quindi hai sposato La città Infatti la prossima domanda È proprio su questo Com'è Com'è vivere Visto che giochi Da tanti anni Com'è vivere Pallabolisticamente Parlando In una grande città Mi spiego Abbiamo detto C'è basket Poi sicuramente L'Olimpia a Milano Surtutto C'è Milano e Inter Ce ne saranno Anche altri Di sport Di alto livello Come Io dico Anche a Napoli A Roma O a Torino Rispetto a una città Di provincia Il pubblico So che Adesso Non c'è Però In tempi Normali Non di Covid-19 Vi seguiva Ecco Com'è Visto che Tante volte A Roma Anche Si è ipotizzato A fare una squadra Di alto livello Poi dopo Due o tre anni Invece Si è abbandonato Insomma Per anche altri motivi Non c'è stata più Questa continuità Invece a Milano Con la Power Volley Si è C'è questa continuità Si sicuramente C'è la continuità Di un Di un presidente Che crede molto In questo progetto Che ha portato Una squadra A migliorare Anno dopo anno Senza dover Subito Vincere lo scudetto Come magari è successo A Roma Qualche anno fa E Questo è un sinonimo Di solidità Io credo Che sia la base Per Far durare E la far lavoro In una grande città Dove Per forza di cosa Di cosa È molto più difficile Che farla A Civitanova A Perugia A Trento A Modena A Milano È sicuramente Molto più difficile Il pubblico Ci segue Ce n'è tanto Ma adesso Se il Covid Ci lascia Ci lascia in pace Speriamo La gente Possa tornare A Palazzetto A Palazzetto Giochiamo In un bellissimo Palazzetto Uno dei dubbi Del nostro campionato Secondo me E anche questo Anche questo Aiuta Senti La tua La tua idea Invece sul movimento Pallavolistico Italiano Abbiamo un'Italia Sicuramente Maschile Che è sempre Tra i primi Posti Mondiali Una squadra Che è giovane Perché comunque Lo dobbiamo dire Con delle punte Di diamante Ecco Movimento comunque Sempre attivo Sempre in crescita Grazie anche A un campionato Di Superlega Di alto livello E grazie anche Quello che dico io A un campionato Di A2 Che è molto Performante Per quanto riguarda I nostri giovani italiani Perché offre Veramente Un alto livello Forse Io che lo sto seguendo Da diversi anni L'A2 Con questa formula Cioè di A2 a 3 Si è alzato Di tanto Il livello Della A2 Quindi buone Per i nostri ragazzi Questo è il mio punto di vista Volevo capire La tua fotografia Sul movimento italiano Allora per quanto riguarda La A2 e la A3 Sicuramente Io la penso come te Hanno ridotto Le squadre di A2 E allargato Quelle di A3 Mantenendole Nella Lega Pallavolo E quindi Vengono anche più Tenute sotto controllo Dalle grandi società E questo è molto importante Perché Quando facevo io La serie B Prima Era Comunque Una serie Un po' Lasciata Arte Di Tama Invece questa A3 È molto considerata E questo è buono La A2 a meno squadre E inevitabilmente Il livello Si è alzato molto Devo dire E questo sicuramente È una cosa importante Per quanto riguarda La nazionale Ma negli ultimi anni C'era questo problema Che avevamo pochi schiacciatori Non c'erano I schiacciatori per l'Italia Di posto 4 E invece adesso Comunque Ci sono diversi giovani Giovani e giovanissimi Che Veramente interessanti In quel ruolo Alcuni 2001 Che hanno vinto Adesso hanno salvat i secondi Ma l'hanno prima Avevano vinto Olimpiadi giovanili Mondiali Europei Eccetera E anche sotto Vediamo la Preuni Ores Che ha appena vinto L'Europeo Quindi Il movimento La nazionale Potrà rimanere Comunque Nell'alto livello Per diversi anni Secondo me E bravo Brencini Comunque A poter Appuntare su di loro Io aggiungo solo La tua considerazione Che condivido Le ultime squadre Di A3 Il livello Forse non è altissimo Ovviamente Il livello Della Serie B È calato tanto Calato tanto Rispetto a Due o tre anni fa Ma è inevitabile Inevitabile Perché Hai Molte più squadre In A3 Hai raccolto Le migliori squadre Migliori giocatori Della B E questo però È un po' Lo scotto Che si paga Sì Diciamo che L'ultimo weekend Che poi In realtà È stato Il primo Per la Serie A3 Che i ragazzi Che vedevo in panchina Gli altri anni In A2 Quest'anno giocare Con anche Un buon rendimento Quindi vuol dire Che anche questo 18-20enni Che fanno Un A3 Magari Tra qualche anno Vanno a fare Giocatori D'A2 Magari Non arriveranno In Superlega Però Comunque Possiamo dire O magari Sì O magari Sì Dai Sì Però Sì Però Quello che dico È Magari andare A forzare E fare Una buona A2 Perché Magari Anche Il salto Anche Economico È grande Ancora Tra A2 Superlega Però Possono Far comodo A tutti Quindi Benvenga Questo movimento Sicuramente Allargato Di serie A In generale Io Nicola Ti lascio La tua serata Ti ringrazio Vi faccio Un grande In bocca al lupo Ringrazio La società Il vostro ufficio stampa Per aver parlato Con te Quindi questo Significa Grande apertura Anche da parte Vostra Grazie a voi Iva al lupo E buona Continuazione Buona serata Grazie a Nicola Daldello Alzatore della Power Volley Di Milano Noi ci Fermiamo Dietro la pubblicità Andiamo ancora In acqua Time out per noi Lì nella legia